ehi nate guarda qui forse passando per l'edificio ok buona idea solleviamola vai sotto ce l'hai bene abbassiamola ehi 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 dall'altra parte sembra esserci un'uscita a merda tutto bene sì sì tutto a posto possiamo uscire da quella finestra ma dobbiamo arrivarci se la metto in folle possiamo spingerla io spingo tu sterzi heir ehi 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 Hai provato a cercare le chiavi. Continua a spingere. Ok, tienila ferma. Ci salgo sopra. Forza presto, cedo. Non resisterò a lungo. Oh, come on. Wow, guarda che bestione. Aspetta un attimo. Apro la porta. Stai attento, ok? Sento due uomini. Chi è là? Grazie. Oh, Marta, giù, giù, ti aspetta! Oh, Marta. No! Grazie! No, no, no! Non andranno lontano. Stai bene? Sì, e tu? Eh, alla grande. Come prima? Sì, possiamo fare come prima. Sta scivolando! Oh, 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 la perdo! Cazzo brutta storia. Molto, molto brutta. Sta giù. No, 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 no! Cazzo brutta! No! Cazzo brutta! Cazzo brutta! Cazzo brutta! Qua su. Accidenti, quanti diavolo sono? Troppi. Dobbiamo cercare di passare, stando in silenzio. Stando in silenzio. Stando in silenzio, stando in silenzio. Stando in silenzio. Oh, merda. Ci hanno scoperto. Già, addio al fattore sorpresa. Tieni giù la testa! Occhio! 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 Sì, sì. 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 Nate! Sì, sì. 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 E' morto. E' morto. E' morto. E' morto. Merda. L'ho scoperta. Ah, addio al fattore sorpresa. Dobbiamo liberarci subito di loro. Tieni giù la testa. Merda! E' morto. 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 Un regalo per te! La merda! Un regalo per te! Bene! Seguimi! Un regalo per te! Manca poco! È al di là di quel tetto! Ok. Pare abbiano quasi finito le operazioni di carico. Muoviamoci. Andiamo. Ok. Da qui in avanti sembra libero. Già. Allora, arrivo in cima e poi ti aiuto. Bene. Coprimi, ok? Ehi, ma che... ma cosa stai... Elena, ascolta. Diavolo, lo sapevo che avresti provato a fregarmi. Non... ti prego. Siamo onesti. Questa è... è un'impresa disperata. E quando ho rischiato di perderti... Non lo perderai. Non voglio che succeda mai più. Quindi prendi quel fuoristrada laggiù e vattene da qui. Ora che puoi. Non ti resta molto tempo. Vai. Va a partire l'aereo! Ok. Chiudi il cappello! Ah, diavolo! Vai partire l'aereo! Attrae l'aereo! No! Non deve arrivare là! Tenetelo lontano dalla vista! Spacciato! Spacciato! Tenetelo lontano dalla vista! E' finito! E' finito! Brava ragazza! Salta su, forza! Ehi! Déjà vu, eh? Già! Avvicinati al carrallo! Ok! Ehi! Atento! Tu tieni la ferma! A destra! Un papi qua! A destra! Un papi qua! Salta ora! Un papi! Un papi qua! È rite! Fenora! Un papi qua! Olof! Oh, ok No, no, no No, dai, parliamo del... Ah, ah, ah Oh, God Oh, God Idk Andiamo! Andiamo! Grazie per aver volato con noi! No, no, no! No, no, no! No, no, no! 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 No, no! No! Grazie a tutti. 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 Perfetto. Meglio muoversi. Grazie a tutti. 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 Che cos'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Non so... Non so... Non so... sono... 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 non so... non fermarti. quali radici... ferrano... che... sono... o... 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 credo sali sali ok ce la faccio posso farcele sali 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 grazie al cielo un villaggio ah 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 ti prego fa che non sia un miraggio no merda è una città fantasma ah 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 bene controlliamo almeno è reale proviamo di qua non ci voleva grazie a dio un pozzo ok ok diavolo merda è prosciugato eccoci merda merda imbevibile ok 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 ci sarà ci sarà pure qualcosa di utile qui non 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 Ah, cazzo. È Drake. Mi serve un'arma. Si è nascosto. Stannatelo! Che ci fanno qui? Che ci fanno qui? Il luogo di Marlowe. È finita! È a terra! Che ci fanno qui, il luogo di Marlowe. Che ci fanno qui, il luogo di Marlowe. Allora, cazzo. Ah! Ah! Cazzo. Ah! Allora! Oh, no! Cazzo. 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 Ok. No, basta! Colpito, indietro! Ah, merda! Forse... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono bloccato qua giù. Grazie a tutti. L'ho perso. Continuate a cercarlo. Perfetto. Perfetto. Ci sarà un modo per uscire. Mi serviva. Ok. Perfetto. 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 No, no. No, 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 no. Tornerà utile. Arriva! 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 Perfetto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.